Benvenuti nel mondo Hublot. Hublot è un marchio svizzero di orologi di lusso fondato nel 1980 da Carlo Crocco. Sin dalla sua nascita, il marchio si è dedicato alla creazione di orologi di alta qualità, caratterizzati da un design innovativo e all'avanguardia delle tecnologie. Gli orologi Hublot sono disponibili in una vasta gamma di stili e modelli, adatti ad ogni tipo di cliente. Tra questi si trovano orologi da uomo e da donna, e orologi con complicazioni aggiuntive come la data, il cronografo e il tourbillon. Tuttavia, ciò che contraddistingue gli orologi Hublot è il loro design distintivo, che presenta una lunetta circolare con sei viti esposte sul quadrante, che ricordano l'Hublot di una nave. Il marchio è noto per il suo utilizzo innovativo di materiali di alta qualità, come l'oro, il platino, la ceramica, il titanio e il carbonio. In particolare, Hublot è famoso per il suo utilizzo del carbonio, che gli ha permesso di creare orologi leggeri, resistenti e di grande impatto visivo. Grazie a queste innovazioni, gli orologi Hublot sono diventati sinonimo di stile, eleganza e lusso. Uno tra gli orologi più rappresentativi del marchio è il Fusion. Questo modello venne presentato per la prima volta a Baselworld nel 1980, e il nome Fusion venne scelto per la fusione di materiali diversi usati per la sua composizione. Infatti il Fusion divenne famoso per la prima associazione della cassa in oro, un materiale nobile e prezioso, con il bracciale in caucciù, un materiale considerato umile. Questa scelta audace si rivelò un vero successo, portando il Fusion tra gli orologi più ricercati al mondo. Gli orologi Hublot sono spesso associati con eventi sportivi di alto livello, come la Coppa del mondo FIFA e la Formula 1. Il marchio ha anche collaborato con numerosi atleti e celebrità per creare orologi in edizioni limitate, che rendono questi segnatempo unici e preziosi. Hublot è stato acquisito dal gruppo di lusso francese LVM Ash nel 2008 e continua a produrre orologi di lusso di alta qualità con un design innovativo e all'avanguardia delle tecnologie. Grazie alla sua attenzione per i dettagli e alla sua passione per l'innovazione, Hublot è un'azienda che si è guadagnata una reputazione di eccellenza nel mondo dell'orologeria di lusso.